è analogo di quello che accade per i piani deformabili nei piani deformabili voi sapete che l'edificio ogni nodo diventa sede della massa e qui siamo di fronte a una situazione analoga cioè ogni nodo della struttura diventa sede della massa corrispondente a quel nodo stesso e quindi anche la distribuzione delle forze diventa una distribuzione effettiva cioè tutte le forze vengono suddivise tra i vari nodi se c'è una distribuzione proporzionale delle masse è in via a flottatura come funziona altrimenti può essere anche appunto una distribuzione lineare nel senso che dipende anche dall'altezza e dalla volta della massa stessa quindi le analisi non lineari si possono condurre per questi tipi di distribuzione e alla fine cosa abbiamo trovato? ecco, si è trovato che in effetti dando come limite il taglio ultimo che veniva fuori dall'analisi con il sistema aggiunto ad atto quindi per comportamento fuori piano la popola era ancora in grado di resistere però a quel punto si è preferito terminarla l'analisi cioè si è dato noi un limite in questo caso e non si è mandata oltre proprio per il fatto che questo modello potrebbe non interpretare molto rettamente il fuori piano e quindi a cosa ci è servito? a vedere lo stato di fessurazione era raggiunto al momento in cui si interrompeva cioè al momento in cui si riteneva che non fosse uno stato ulteriormente raggiungibile ecco, quello che viene fuori, come poi avrete modo anche da approfondire insomma nelle pubblicazioni che faremo, è uno stato di fessurazione che corrisponde alle parti che sono andate in frazione nella cucola e che quindi sono state eliminate dallo schema resistente che è di fatto abbastanza, insomma, notevolmente simile a quello che si può trovare per tutt'altra via è stato appunto lo studio condotto con Avacus da professore che prima gli è stato illustrato quindi, in definitiva, lo studio di questa cucola mi poteva essere affrontato pensando al fuori piano come l'arco elementare strato dove però si può considerare la resistenza a trazione dei giunti e quindi è un passo in più rispetto a quello del solido rigido frabile e nello stesso tempo cercare appunto un campo di fessurazioni determinato da uno schema spaziale che è questo della curatura reticolare dove comunque si è inserita anche il controllo di non superamento della forza manifestata dal meccanismo precedente ecco, quindi, in questo modo alla fine si è potuto arrivare a un valore del moltiplicatore a un possibile quadro fessurativo non è risultato da poi un effetto di strutture di questo genere ecco, poi, questo è sempre un altro modello fatto con PCA come vedete si possono fare anche delle cose interessanti questa è la stessa cucola con gli anelli d'acciaio però questa volta modellata anche con il cordolo in cemento armato e con il tamburo su cui si imposta cioè le parti murari, a questo punto qui, che sono appunto elementi verticali in muratura che hanno, come vedete, delle sezioni non banali ecco, non si tratta di elementi a sezione rettangolare sono sezioni che sono state descritte proprio con i loro vertici e questo già si può farlo anche in PCA cioè proprio inserire nelle strutture delle parti che non hanno sezione rettangolare il che lo sconsiglio vivamente per gli edifici cioè per gli edifici è bene usare comunque più possibile le tensioni rettangolari per problemi di modelli difficili poi da gestire però in questi casi dove invece si va proprio a studiare la posizione della curva delle pressioni quindi diventa molto importante vedere se questa è interna o no alla sezione stessa e chiaro che non la possa approssimare a una rettangolare cioè devo seguire invece proprio il perimetro reale ecco, e quindi in questo modello per esempio si teneva come controllo l'elemento pilastro murale cioè di avere appunto la repressione fosse interna oltre a quella appunto sul fatto di eliminare le aste che vanno a trazione allo schema della cupola ecco, questa è la distribuzione delle masse perché qui vengono tutte suddivise e quando questi elementi tipo pilastro murale si suddiviscono in tante conci ogni massa finisce nel singolo nuovo quindi c'è una distribuzione molto diffusa che tende ad avvicinare meglio il risultato reale dell'analisi modale queste sono delle immagini anche suggestive alle quali mi ha dato il valore relativo cioè non va pensato che questo si avrebbe accade sismicamente perché quando si vede l'analisi i modi di vibrare spesso si interpretano come le deformazioni sismiche non è questo cioè il modo di vibrare è la frequenza elastica della struttura cioè la sua capacità in fondo di avere delle vibrazioni e da questa dipende poi anche come arriva l'input sismico sulla struttura stessa però non è questa la deformata finale dello stato ultimo quindi è importante capire anche questo suono di vibrare però il fatto che si possono trovare le frequenze di oscillazione è abbastanza importante ecco, questo invece è dopo aver condotto l'analisi statica non lineare sono le analisi appunto delle parti in muratura sottostanti alla cucola cioè si guarda appunto se è un po' se si vedono meglio in altre immagini probabilmente si vede più efficace in questa è questa posizione verde rappresenta la posizione della curva delle pressioni a uno stadio dell'analisi non lineare cioè si vede appunto come da una posizione iniziale l'applicazione di forze sismiche crescenti sposta appunto dall'applicazione appunto del carico verticale finché a un certo punto in alcune di questi elementi può fuoriuscire evidentemente nello spirito con cui è costruito anche il software che c'è la verifica quindi del pilastro murario consiste nel fatto che quando fuoriesce quell'elemento diventa non più reagente e quindi sostanzialmente nel caso di un pilastro segna anche la fine del comportamento della struttura è difficile che si possa formare una viella in un elementino e che la struttura riesca ancora appunto a non avere nessuna labilità comunque questa è tra l'altro facendo anche delle animazioni proprio si può vedere come si passa da uno stadio iniziale in quel quasi verticale o di poco spostata fino poi a vedere come si fomentano questa è un'ultima immagine anche tanto per farvi capire che a questo tipo di analisi comunque si può affiancare anche delle analisi più tradizionali quindi abbiamo studiato usando un modellatore di labilità generale e uno spicchio proprio rigido a questo punto della pupola sul tamburo per vedere anche in questo caso quant'è il moltiplicatore di collasso quindi per avere un'ulteriore conferma del campo in cui ci si stava muovendo e qui ci sono varie considerazioni sulla posizione della scerniera di ribaltamento e sui valori appunto del moltiplicatore alla fine c'è una sintesi dell'analisi che ci porta appunto a questo valore nel questo 0,433 che è abbastanza vicino appunto al valore fornito da Abacus abbastanza vicino nel senso non può coincidere sono talmente diversi i due approcci che ovviamente la diversità in qualche modo si paga però non siamo fuori completamente all'ordine di grandezza questo vuol dire che le indicazioni che possiamo ricevere da questa strada sono importanti oltretutto e più delle volte noi non dobbiamo dare una fotografia assoluta del valore di accelerazione resistente delle strutture perché se siamo nell'ambito del miglioramento è chiaro che basta avere dei criteri logici o attendibili con cui muoversi e poi il confronto tra una situazione prima e dopo è comunque possibile anche se i valori non sono proprio quelli esatti e quindi diciamo che questo 30% di scarte è stato considerato comunque un buon risultato ovviamente si tratta di aspetti che stiamo continuando a intagare va detto anche che mentre il sistema conci murari aggiunti e quello dei pilastri murari che lavorano per curva delle pressioni quelli sono già validi in sé quando non aggiungono nulla alla teoria delle strutture questo sulla muratura reticolare è un po' più delicato cioè è ancora in fase di ultimazione presente in confronto tra pannelli come faceva vedere prima il professor Camata e anche quella comunque sembra una strada promettente perché potrebbe essere un'altra maniera per affrontare tutta la questione delle certiature e degli interventi nelle singole pareti cioè evitare quelle verifiche come stiamo facendo ancora nel resto perché da un momento non si può fare altro che tentano di rappresentare un buco in marco murale un'unica asta perché se questo può avere un valore maggiore magari in un organismo complesso dove la scala anche della singola parete è molto meno importante rispetto a tutto il resto della struttura quando si analizza la parete in seto che si inserisce un foro che si inserisce la ceppiatura può diventare importante in effetto andare verso un'analisi un po' più puntuale che però appunto vorremmo condurre non a elementi finiti più o meno rittici ma invece in uno schema molto semplice di curatura reticolare che una volta capito insomma è veramente comprensibile da tutto e vantaggio oltretutto di poter inserire le cerchiature come aste d'acciaio in qualunque posizione siano messe si potrebbe arrivare a schematizzare anche proprio gli ancoraggi come singoli elementi che collegano varie parti tra loro e così via quindi ci sono diversi sviluppi possibili oh, questo è un altro tipo di struttura dove vi faccio vedere che con quel sistema conci, murari e giunti sono stati modellati questi quattro archi che si impostavano su questi grandi pilastri la Uqua, la Volta a Muro appoggia sopra questi archi e queste archi a loro volta scavano su questi grandi pilastri tra l'altro qui c'è il transetto sud è stato chiuso come accesso dalla vata centrale attraverso un muro quindi sereno questo muro è stato frazionato opportunamente si può in qualche modo valutare anche se delle componenti soluzionali in qualche modo sono inserite in questo tipo di comportamento questo è lo studio della sezione dei grandi pilastri ecco il marcio all'inerzia ovviamente lo studio della geometria delle masse che è comunque importante per capire il funzionamento della sezione anche se in realtà poi quando si fanno le verifiche nello spirito appunto della teoria di Heimann quello è il terimetro esterno non tanto il noccio di inerzia ecco questa è un'altra figura dove vediamo meglio l'andamento della curva delle pressioni dall'alto verso il basso chiaramente dipende tutto dalla struttura vincolata dalla ragione tra momenti esporzi normali e quindi comunque poi si può fare appunto una specie di radiografia della struttura in modo tale da vedere proprio come come si muove la curva delle pressioni al suo interno questo è lo schema dell'analisi modale applicata a queste strutture anche lì appunto c'è questa diffusione delle masse per cercare di interpretare al meglio il modo di vibrare quindi come vedete insomma di cose su cui studiare e lavorare ce ne sono molte secondo noi sono tutte molto promettenti perché se lo scopo è quello di disporre di strumenti relativamente semplici direi che la direzione è giusta ovviamente nei limiti che ci siamo posti e nelle sue stesse campi di applicazione e potrebbe aprire appunto ad analisi un po' più appropriate di strutture che più delle volte non si sa neanche tanto bene come affrontare data la loro complessità anche di tipo storico e di tipo anche strutturale va bene io direi che con questo ho concluso ecco questa ricerca scocerà appunto in un prossimo aggiornamento di BCE di fatto sarà pianemente disponibile con la nuova versione che proporremo all'inizio dell'anno nuovo e soprattutto per quanto riguarda tutta la documentazione che è necessario seguire per poco più di applicare a casi concreti e quindi ci sarà appunto questo materiale che verrà prossimamente io vi ringrazio per l'attenzione e al termine di questa mattinata abbiamo anche l'intervento dell'ingegnere Aisa che ci riporta sul piano degli interventi e quindi dei casi concreti con cui sono stati affrontati alcuni edifici monumentali infatti spesso parla di queste situazioni e quindi penso sia così significante anche riallacciarsi proprio a qualche esempio di applicazione di un'altra bene vado a fare un'allora di un'altra applausi ci siamo già presentati ieri quando ci siamo lasciati a loro grazie mia che è materiale per il raccogliere di questo oggi in particolare vi parlerò i nostri sistemi FRP sistemi lavorativi lo farò rispondendo a quattro domande che solitamente mi vengono proposte come responsabile tecnico dell'ufficio dell'azienda e poi vedremo alcune immagini relative ad un'applicazione proprio di rinforzi di una pupola a foglie allora intanto sistemi compositi perché certificarli questo è uno strancio che però è un nucleo fondamentale per capire come devono essere dimensionati e qual è il senso di avere sistemi certificati piuttosto che certificati la deformazione di design quindi quella che utilizzeremo per dimensionare l'intervento con i sistemi compositi è pari al valore minimo fra la deformazione caratteristica Epsilon FK del sistema composito e la deformazione di delaminazione Epsilon FDD quindi in definitiva il sistema composito che io incollo tra virgolette su una struttura andrà a rottura o perché si rompe o perché si delamina e si stacca dal supporto sul quale l'ho posizionato il valore minimo è quello che determina il valore di design e lo utilizzerò per le varie verifiche agli stati limite ultimi delle sezioni in calcestruzzo o mortura ora l'Epsilon FK è la deformazione e il design del sistema composito il sistema è un insieme di fasi differenti quindi c'è il tessuto di rinforzo cioè la matrice che viene utilizzata per incollarlo sul supporto quelle che vengono scaricate le caratteristiche che si vedono sulle schiere tecniche della fibra in carbonio sono caratteristiche della fibra in carbonio